ciao benvenuti in questo nuovo video e oggi faremo la Whisper Challenge allora praticamente la Whisper Challenge è un gioco in cui metti le cuffiette con la l'ho sparata altissimo e devi sentire quello che hai fatto chi è che parla raga? io non so cosa dirti no se tu non stai dentro non ti serve dovete parla anche voi allora mi dai vado io non so che cosa dire non so cosa dirti non so cosa dirti non so cosa dirti nooo non so cosa dirti no magari mi hai andato a dire il canzone in un modo più lento todas prima si lascio dentro la canzone non so cosa dire Non so cosa dire enjoy sei Diciamo solo metà qua. No, tutto. Cominciamo solo metà. Cogli il pinguino? Fai più la bale. La bale. Con l'assenza dell'ospedale. Sto morendo. Siamo a due. Scandisci bene l'aviale. No, 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 no. Con la cartona e il tuo nozzo. No. Allora. Io voglio che me lo faccio. Con l'assenza dell'ospedale. Non capisco niente. Con la cartona e il tuo nozzo. Non capisco niente. Non capisco niente. Cambia perché c'è la stop. Con la cartona. Sì, quasi semplice. Ok, adesso. Due tazze strette. Due tazze strette. Tu sei grande. Ma c'è solo la prima parte. Due tazze strette. Tu ti senti grande. No. No. Afferma. Ok, puoi andare. Questo qua urla un sacco. Bravissimo. Due tazze strette. Due tazze strette. Sì. Vabbè qua. Hai perso. Hai perso. Hai perso. Erano due tazze strette. Vabbè. Sì. Sì. Sicuro. Io che te lo faccio. Secondo me. Dammi il telefono. Ma gliele hai messo al contrario. No. No. Siamo a quasi mezz'ora di video. Sì. Dai. Dopo ci penso. Io non ti prendo un pezzo. In. Piatto. In. Poco. Puto. Va bene. Ah! 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 Occhio. In. Piatto. Poco. In. Cerbiatto. In. In. Piatto. Poco. Non so. No. Sento. No. Mi sa che è finita la canzone. È ripartita matta. È bella. Aspetta. Vado indietro. Brava. Senti. Mi sa metti. Di banco. Guardi. No. No. Senti. Senti. Un pochino. Ok. In. Un. Piatto. Poco. Cupo. Il mmm. Piatto. Il cuoore. Allora, il piatto, il muu, vabbè, vabbè, in un piatto, un poco bufo. Dimmi quando non senti, dimmi quando non senti, ok, se non sento così. Novi, mamma. Fattaccio! Vai! Sopra quattro rossi sassi... Sopra quattro pozzi... No, quasi! Sopra quattro rossi sassi Sopra quattro rossi sassi Sopra quattro corsi No! Stop! Sopra quattro rossi sassi Tocca a me! Vai, fatti! Vai! Fino a... No, mi ti ha sentito! Scusa Basta! Senti! Eh? Sì! Lego il labiale ma non ti sento Benissimo! Benissimo! Ok! Mi hai rubato una... Vieni qua! Che piccola! Ma hai mischiato due cose insieme? Hai mischiato? Ma hai un po' appisco del libro dell'aggiunto? No! Allora, cosa è? Quella che stavo facendo? La piccola va giù Ma è una cosa che avrà? Allora... Cos'è che era? Però io ci sono sassi Senti! Eh? Che per cosa trovi? Eh? Senti! Ora sì! Perché si è fermata la musica! Che anello? Te la devo rimettere! Eh? Ok, no! Se oggi Seren non è... No! Non è che non ho capito! Se oggi Seren non è... Se oggi Seren non è... Oggi Seren non è... Oggi Seren non è! No! Aspetta che... Aspetta che... Vai! Non faccia la devo io! No! Se oggi Seren non è... Domani Seren... Oggi Seren non è domani! Oggi Seren non è domani! Ah, Seren! Il primo... La più verità! Se... Oggi... Se oggi... Seren! Retterelle? Eh? Ehm... Ah, qua! Io non capisco! Ascolta, cioè... Se... Oggi... Seren... Seren non... No! Aspetta che sento! Vai! Se... Oggi... Seren... Seren... Non è... Oddio! Hai perso! Se oggi è la Marena non è... Eppa, sei oggi serena! Non è! Vabbè, ma è uguale! Viva! C'è! Da dove? Vado! I give it up! Scusa! C'è un buco? Ti sento se urli, lo sai! Ho capito, c'è un buco! Non è così! Non è così! Non lo stavo pensando! Mi stavo chiedendo! È quella della bambina! Eh? È quella della bambina! Mi ha capito! Oh! Oh! I'm not prepared! Emma! Aspetta perché qua è bassa! Senta due secondi! Uno, due! Emma! È proprio quello che è! Vado! Cosa? Vado! No! 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 Vai! Vai Emma! Com'è che era? O! tizio tazio l'acido lattico o forno no non ancora parlare o tizio tazio tiranno un elastico devo riprovare o tizio tazio tiranno un dito tattico non ho capito come si fa o tizio tazio tiranno ma io ho perso ho fatto un casino devo farlo io alla demo domani aspetta sopra la panca la capra capa sotto la panca la capa la capra ho capito così banana capito sopra la panca no si l'hai scoperto ho questa ho questa però l'ha capito l'hai capito giusto right era sopra la panca la capra campa si era giusto è giusto sei pronta va bene li vuoi quei kiwi l'ho detto giusto però e siamo vicina vieni più vicino li vuoi quei kiwi l'ho capito assolutamente niente perfetto questo l'ho capito li vuoi quei kiwi qui 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 è più o meno no aspetta è basso ma è ancora la stessa ok è ripartita ok va bene di voi quei kiwi quiz 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 Ma non è latino No 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 Liquor liquoris No basta Liquor liquoris Ok Devo interrompere Sto coso che non so come Siamo alla fine del video Sì no Speriamo che il video vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale E lasciate tanti like E no E seguiteci anche su Instagram Vi lasciamo i nomi in descrizione E abbiamo fatto anche un'altra Whisper Challenge un po' di tempo fa Se volete vederlo vi lasciamo anche quello in descrizione Se mi ricordo di metterlo tra l'altro Ok te lo ricorderemo a me Adios Adios